Sandrina, la tua casa è la nave su cui navighi o l'isola in cui approdi? Entrambe le cose. La nave su cui navigo perché comunque esploro il mondo attraverso la casa. La mia casa è un laboratorio, lo dico sempre, non è mai uguale a se stessa. La cambio, la modifico, sì certo, magari per un servizio fotografico, magari per esigenze tra virgolette aziendali, però è un percorso, soprattutto la cucina, è un laboratorio dell'anima, io in cucina sono piena di libri, anche lì non li cucino, per fortuna non ancora, quantomeno, però di notte se non dormo io vado in cucina, non vado in un altro luogo della casa. È la cucina perché magari la camomilla, il tè, e leggo e elaboro eccetera. Quindi senz'altro è una nave che mi porta altrove, però è anche un'isola dove approdo perché anche nella praticità di una giornata si arriva a casa e si è nel proprio mondo, quindi è come un'isola. Un'isola che può essere felice per certi aspetti, infelice in altri momenti, perché comunque non tutto è facile anche quando sembra facile, perché magari il luogo è molto suggestivo o comodo o bello. Non è sempre così, il lavoro che c'è dietro è sempre immenso e quindi è poi anche il lavoro che uno trova in un'isola. Io quando penso a un'isola penso all'isola di Monte Cristo e cosa il conte di Monte Cristo ha trovato in quell'isola. Alla fine ha trovato tutta la sua vita e tutto il suo riscatto. Quindi c'è questo dualismo anche all'interno di una casa. È un'isola, isola felice e infelice, senz'altro è entrambe le cose, nave e isola. Venezia per te è Itaca? Sì, non sono veneziana ma ho trovato Itaca senz'altro. Mi descrivi la tua casa in tre parole? Luce, colore e ombra.